Una macchina che abbraccia un fanciullo, metafora di una rivoluzione tecnologica che sta progressivamente polverizzando consuetudini millenarie. E questa è l'icona scelta per rappresentare la ventesima edizione del Lectoring in Fabula, l'European Culture Festival, che anche quest'anno si prepara ad approdare a Conversano dal 19 al 25 settembre, sette giorni nei quali è stato predisposto un fittissimo programma di appuntamenti per parlare di scottanti temi di attualità, come quello riguardante le prossime elezioni presidenziali americane o i conflitti globali, che mettono sempre più a repentaglio la democrazia. Sai che la rende particolarmente orgogliosa dell'organizzazione quest'anno? Ma l'orgoglio o la soddisfazione, forse meglio, è data dal fatto che ogni anno si ripete questo miracolo organizzativo e che ogni anno cresce e che migliora, sia dal punto di vista della qualità, sia dal punto di vista dei contenuti, ed è un grande esercizio, una grande palestra di esercizio di democrazia che coinvolge tutta la cittadinanza. L'Hector in fabula è ormai un punto fermo per la comunità di Conversano con una città che è cambiata nel corso degli anni, avvicinandosi sempre di più alla cultura e alla letteratura. 25 anni fa, infatti, non erano presenti librerie tra le vie della città, adesso ne sono presenti addirittura tre. Come diceva Alessandro Leogrande, La memoria non è un feticcio né un altare, ma piuttosto un porto aperto. E noi consideriamo l'Hector in fabula un porto aperto che raccoglie tutto il lavoro seminato nel tempo. Per le vie di Conversano saranno presenti anche cinque mostre, tra le quali ce ne saranno alcune sensoriali o interattive che saranno incentrate sul contrasto alla violenza, oltre a delle esposizioni dedicate alla Seconda Guerra del Golfo in Iraq.